Sulla spending review è stata posta la fiducia, la 34esima, presentati 160 emendamenti, la maggior parte della maggioranza che sostiene ai monti. Una sorpresa questa fiducia e qual è stato il contributo del Partito Democratico per migliorare il testo uscito dal Senato che insomma era già blindatissimo. Una sorpresa non direi perché ci si aspettava, c'è bisogno di approvare con urgenza questo provvedimento. Noi abbiamo contribuito già al Senato a migliorarla soprattutto sui punti più delicati che sono gli interventi sugli enti locali e la sanità, che ci sembrano le due questioni di emergenza che non devono finire con questo decreto ma vanno riprese assolutamente nei prossimi provvedimenti. Oggi però fanno un po' polemica le parole di Monti di bypassare il governo, qual è stato il vostro pensiero? Ma insomma siamo all'ordine del giorno, le polemiche credo che siano anche comprensibili le tensioni di un momento così difficile. Penso che convenga concentrarci sui contenuti e sulle ulteriori difficoltà che l'economia ha ancora. L'appuntamento di settembre saranno appuntamenti molto seri. A proposito di questo Monti dice che i conti sono ok, che non c'è bisogno di aiuto. Voi che cosa ne pensate? Diciamo lo sforzo che è stato fatto in questi ultimi tempi, soprattutto rispetto al pareggio di bilancio, è stato notevole e ha avuto successo. Il rientro dal debito è avviato, non è sufficiente, quindi da questo punto di vista bisogna implementare una capacità di tutti collettiva di agire sul debito. Quando la lotta all'evasione si è avviata ed è un pezzo non marginale, io penso che faccia bene il Presidente del Consiglio a dire che non abbiamo bisogno di aiuti perché questo è anche un modo per dare il segno della salute della nostra economia, ma per realizzare questo obiettivo allora è necessario uno sforzo collettivo maggiore di quello che stiamo facendo. Il Parlamento di Settembre è già pronto con nuovi provvedimenti che probabilmente potrebbero toccare ancora gli antilocali, c'è un rischio di nuove tensioni? Siamo pronti anche noi, bisogna che il Governo capisca che non deve scodellare provvedimenti già pronti, deve farli precedere da una discussione di merito con le forze politiche e il Parlamento. Anche noi abbiamo le nostre ipotesi sugli antilocali, sulla sanità, sui ministeri e soprattutto sull'insieme generale delle tappe che accompagneranno la spending review che non è un capitolo unico. Credo che ci voglia un salto di qualità nei rapporti con il Governo relativamente al fatto che ci vuole una maggiore collaborazione, non da parte nostra nei confronti del Governo, ma da parte del Governo nei confronti del Parlamento e delle forze politiche. Anche in questo senso è in attesa la tax expenditures che proprio deve prevedere la vendita anche di immobili. Vi convince un nuovo tassello? Io penso che la dismissione di immobili, pur in uno scenario di mercato non favorevole, sia però una tappa fondamentale di una vera, coraggiosa lotta al debito e anche di una seria spending review. Si tratta di passare al merito, noi siamo convinti che non bisogna farsi illusioni che tutto sia possibile a 400 milioni, però credo che la strada sia quella giusta e anche possiamo raggiungere risultati importanti. Ma ripeto, anche in questo caso preventivamente bisogna mettere le carte sul tavolo. Che costo sarà? Le borse sembrano andare meglio ma lo spread resta alto. Quando tireremo un sospiro di mio sollievo e quando i mercati si calmeranno? Ho letto in queste ore che a 48 ore dalla prima uscita di Draghi le cose sono assestate e molti commentatori dicono che i mercati hanno capito in ritardo. Io non credo che i mercati capiscano in ritardo, credo che facciano il loro gioco. La politica e le istituzioni finanziarie devono fare il loro. È un braccio di ferro non ancora concluso. Bisogna distinguere tra investitori e speculatori, favorire gli investitori e combattere gli speculatori.